Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP, termometro politico di oggi, sabato 28 gennaio 2022. Fratelli d'Italia, primo partito al 28,6%, il Movimento 5 Stelle al 17,6%, il PD al 16,6%, la Lega all'8,4%, Azione Italia Viva all'8,1%, Forza Italia al 7,4%, Sinistra Verdi al 2,8%, più Europa a 2,5%, Italexit di Paragone 2,5%, Unione Popolare 1,5%, Democrazia Sovrana e Popolare 1,5%, altri partiti 2,5%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e grazie.